Barriere di plexiglass per distanziare gli ombrelloni, accesso a numero chiuso e chissà forse anche la mascherina subacquea per fare un tuffo a mare. E' questo l'inquietante scenario del dopo coronavirus sul quale gli imprenditori della balneazione stanno alzando gli scudi dopo il via libera a partire dal 4 maggio in Campania, nel resto d'Italia dal 14 aprile, per avviare le attività di manutenzione e di montaggio delle attrezzature sugli arenili. A sollevare le polemiche una dichiarazione del sottosegretario con delega al turismo Lorenza Bonaccorsi, che ha rassicurato gli appassionati della tintarella, ma ha messo in allarme i concessionari dei Lidi. Andremo al mare questa estate, ha affermato la rappresentante del Mibact, e stiamo immaginando una serie di normative che contemplino l'ipotesi di un distanziamento. Ma è proprio sulle modalità del distanziamento che i gestori degli stabilimenti fanno quadrato e rilanciano al mittente ogni tentativo di trasformare le oasi di relax e di tempo libero in veri e propri spazi di reclusione, come sottolinea Salvatore Trinchillo, titolare del complesso Varca d'Oro e vicepresidente nazionale del Sibel, sindacato balneare di Confocommercio Imprese per l'Italia. Dal 3 maggio possiamo iniziare i montaggi, le attrezzature. Useremo questo tempo fino al 3 maggio per discutere sulle norme. Abbiamo un'unione questa settimana, anche nelle prossime, ci siamo dati questi 15 giorni di tempo, 20 giorni di tempo, utili per buttare giù un protocollo che ci metta nella condizione di poter operare in sicurezza. Cosa cambierà? Cambierà sicuramente l'approccio nostro verso il cliente, saremo più attenti alle distanze, saremo più attenti alle norme di sicurezza, ma sicuramente faremo in modo che la giornata balneare per il cliente possa essere di relax, svago, piacere e non accettiamo in nessun modo alcune idee fantasiose che stanno scendendo in questi giorni dove si dipinge lo stabilimento balneare come uno spazio di reclusione. Il messaggio che vogliamo dare a tutti è di tranquillità, gli operatori balneari sono gestori di un bene pubblico, sono coscienti del loro ruolo, noi come associazione di categoria stiamo facendo di tutto per far capire a tutti i colleghi che questa cosa va affrontata con assoluta calma, con pazienza, con degli step. Il primo step è riuscire a montare le attrezzature, il secondo step è riaprire, ma riaprire a condizione che si possa fornire, dare la possibilità di passare una giornata tranquilla e serena, coscienti che piano piano, un po' alla volta si ritornarà alla normalità. Prese le distanze dalle barriere trasparenti tra gli ombrelloni, gli imprenditori della balneazione ne chiederanno nei prossimi giorni una serie di provvedimenti urgenti per programmare l'imminente stagione estiva all'insegna del contenimento dei danni. Il calo del fatturato dopo Pasqua ai ponti di fine aprile blindati dal lockdown nazionale è almeno del 60% ma solo se si potranno aprire le spiagge nei mesi estivi, altrimenti i danni saranno incalcolabili per le aziende e per i lavoratori del turismo stagionale, questi ultimi i più colpiti in assoluto dall'emergenza coronavirus.